musica qua sotto qua ve lo metterò il mio nome di instagram andatevi a seguire intanto e mi dovete scrivere una domanda che volete che volete a cui io vi risponda quando giocherò con la play 3 vai vediamo si carica call of duty questa cuffietta non fa cuffietta sinistra non fa uè vai oh meno male meno qualche pie arma no sono di queste il fumace non mi piace di più dove andiamo a cambiare il pd che è veramente figo però preferisco altamente la k che ho modificato può andare anche a potenziarlo potenziato è bella al massimo vabbè vediamo va a andare subito una partita molto giocatore a livello 20 intanto sono saliti non è più forte la mia squadra beh la partita non battuta dormiamo un po' ci stanno già sparando la porca tutta non siamo già bene boom boom uè frate boom uè ah frate sei un mio amico frate uuuu ammazzo ammazzo no voglio il mio ehi ehi aspettate un attimo no madonna è paura intanto raga scrivetemi se volete il video il risorno di un video horror ne ho fatto uno su evil nun cioè la sola maledetta boom boom ko ue zio pensiamo di aver selezionato la k invece no mi sono altamente sbagliato tra l'altro oggi è anche il compleanno di asex è il mio alexino che avete visto nella mia ultima food challenge a vero devo andare a controllare quanti like è quella food challenge perché no me lo ricordo più ed è da un e controllo ogni morte del papo ormai porca puttana questi mi stanno facendo il culo dove frate che cazzo fai fra te boom ho la vita fa cagare i maiali bravo aiuto bastardo là che mi fa il trappolone oh mi nascondo qua dietro campero no vabbè i bastardi ma vaffanculo dai io spara a caso c'è un c'era un pompino dietro la macchina un pompino un pompino era più un pompino che un pompino uè no ho tirato ho tirato a cazzo la v un pompino no minchia uè bastardo ma mi sta facendo mi ha fatto il trappolone l'ho vista all'ultimo è qua dietro ora mi vendio tozio sto sparando a cacchio preso qui non che sto capendo la sega boom oh no ah no ah minchia ora ti ammazzo fai mettere a fare questo no non l'ho ucciso ma vaffanculo siamo 38 34 combattuta al massimo 38 35 38 36 ma vaffanculo capisco la sega ammazzalo ammazzalo salta 41 39 41 41 non va per niente bene 42 42 43 42 44 44 45 44 per noi 44 45 49 51 51 52 53 53 53 54 54 55 53 54 54 55 55 55 5 reinforcing No, si, sei vinto, sei vinto Oh Minchia, stavo rincorrendo come un cane quello Incognito, bravo, incognito Boom, 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 boom We are the champions, my friends We... abbiamo vinto, dai In questa partita ho fatto cagare 21, sì, uav di disturbo, sì Finalmente, Dio Cristo, sì 15 uccisioni Andiamo a riscattare Intanto andiamo nel negozio Non hanno aggiunto una sega, come vedo Bello la K melone, K... no, K117 K47 melone Bellino Nota metallica KS471 nota metallica A me piacerebbe prendermi Questo qua Questo qua, la K117 palloncini Perché mi sembra veramente figo E soprattutto è simpatico Mi sa di apparecchio di hit Livello 23 del pass battaglia No, è il mio livello Agni a 100 Ora continuiamo a 1930 Eh, vabbè Ho un accessorio in più, mi sa E se mi trovi Ok Vabbè raga Io direi Che per questo video Può bastare Io spero che vi sia piaciuto Mi raccomando Iscrivetevi al canale E attiva la vista Il tasto e la campanella Noi ci vediamo al prossimo video Peace and love baby I gave you my heart I gave you my heart I gave you my heart